Voi... Voi? Ma non ho capito adesso! Sì, senti lo zeri! Hai fatto il suo? Ma tu? Ci ha messo pure un po' d'acqua. Il papà non vuole che ci metti l'amice del caffè. E il papà non ci può bere. Ci stiamo solendo. Non le vogliamo dire, vizia! No! Non ci staccare. Quando una donna si marita è buona criança se non si fa vedere per una settimana. E' stata inserata con le persiani giuste. Nemmeno i parenti possono andare a trovarlo, sai? La sposa deve assi il tempo di vincere lo scopo di non essere più quella di una volta. Spera che avete manato, non è dormite. C'è dormite! Ah, dimenticavo queste signorite. Poi, la domenica successiva. Dopo 7 giorni di più dopo 2, la donna e la sposa si ingerde il vestito fuori e se ne va messa. con l'anellati del marito a fianco, e lo scopo degli sguardo e degli altri cittadini che viene in sposa faccio che qualcosa è cambiato. Grazie! Grazie! Grazie.